Era il 2015 e Diletta Leotta faceva la meteorina su Sky TG24. Voi ve la ricordate? Ma, soprattutto, la riconoscereste? Ora è uno dei volti più amati di Dazon e di Instagram. Ebbene sì, anche Diletta Leotta è arrivata al successo dopo aver fatto una bella e lunga gavetta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, infatti, inizia in tv locali siciliane, dove copriva notizie per lo più regionali. Dato il talento che dimostra fin da subito, nel 2011 arriva Mediaset, opportunità che le permette di fare il grande salto. Nel 2012, però, arriva la svolta, Diletta diventa una meteorina di Sky TG24 e, giorno dopo giorno, il suo sorriso racconta le previsioni del tempo a tutta Italia. Ma la vera occasione arriva nel 2015, quando la Leotta abbandona il meteo per passare al suo attuale campo d'azione, lo sport. Poker, calcio, Diletta Leotta inizia a essere sempre più amata dal pubblico, sperimentando, nel frattempo, anche la conduzione di reality. Ma non c'è niente da fare, la sua passione è lo sport. Ecco perché, nel 2018, prende una grande decisione. Salutare Sky e approdare su Dazon, la piattaforma di streaming completamente incentrata sullo sport in diretta. Nonostante i continui rumors, la Leotta rimane fedele alla linea e, al momento, non sembra proprio intenzionata a lasciare Dazon. Oggi, all'età di 30 anni, la giornalista può serenamente dire di essere una delle donne più influenti della televisione italiana e di essere riuscita ad arrivare dove molte hanno fallito, un punto di riferimento della Domenica Sportiva, un modello da seguire per tante giovanissime che sognano di rendere la propria passione per lo sport un vero lavoro. Insomma, una carriera che, iniziata in sordina, la portata lontano e, siamo sicuri, la porterà sempre più in alto. Grazie a tutti.